Buongiorno a tutti Io provo ad andare Bravo, bravo Simo, bravo, 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 bravo Ok, d'accordo, sentite, per l'arrampicata ve la risparmi, cerco di arrivare su e poi vi faccio sapere E eccomi qua ragazzi Dopo aver risalito le cascate del mia gara e aver praticamente, come dire Queste cose mi vengono addosso? Non lo so, io le ammazzo comunque Vabbè Quindi dopo aver risalito le cascate del mia gara e se mi preso la pausa pranzo Sono di nuovo a registrazione Questi li ammazzo con questo bastone perché credo che Sono duri come la roccia questi maledetti Quindi guardate qua Quattro palline per ammazzarli Ma nel mamayala Spero solo che la corrente non mi porti via Che dire, siamo in una foresta Noi ci siamo rimpiccioliti Quindi questo in realtà sarebbe un prato Noi invece siamo piccoli come formiche Quindi Di conseguenza Ora Io mi metto in un'angolazione migliore per farvi vedere Ma L'epicità di questa cosa? Cioè l'epicità della statua di Alice che piange? Wow eh Mamma mia che roba Grandi architetture E in mutande? Caterpillar? Caterpillar? Come cazzo si diceva? Ah E va bene E allora Riassunto Come classico lui Gli abbiamo chiesto il favore Di dirci dov'è il coniglio Prendendola un po' alla lunga Cercando di essere il più gentili possibili Però alla fine Alice gli ha detto Piantala di piangere in maniera cattiva E dimmi dov'è il bianco coniglio Solo che lui E porca miseria Ha detto che il bianco coniglio si è rifugiato in un nascondiglio Ed è rischioso per lui Parlare di tale nascondiglio Di conseguenza Di conseguenza ci ha detto che per sapere la verità Gli dovremmo fare il classico favore Ovvero recuperare il suo Il suo guscio Se però qua non arriva un'altra foglia Io non so cosa farci Perché qua Stiamo fermi qui Come dei cretini E se io mi buttassi in acqua Boh io mi provo a buttare Non so che dirvi Anche se qua Aia Oddio piragna Aia Ok probabilmente morirò come un cane Devo uscire Oh fantastico C'ho pure La batteria scarica Come faccio ad avere la batteria scarica? Ovviamente Dove ho salvato l'ultima volta? Non mi ricordo Come faccio io ad avere la batteria scarica? Infatti non voglio salvare Voglio caricare Scusatemi un attimo ragazzi Vado a cercare il caricatore Per questo cosa Ok Sono ritornati in registrazione Dopo aver fatto quel fail lì Comunque Cosa devo dire? Uffa Vedete Poi mi perdo nei discorsi Da bene Boh Ok Aia Puttane Vostre Le sorelle Chiocciole Schiappa Comunque Non so perché mi si è scaricato già il cellulare Questo sofista esce dal nulla E però non vale Ciccio Sono caduto Aia Aia Miseria Dammi il coltellaccio Questi c'hanno i fucili Però non vale No non vale Però sono cascato Porca miseria Uffa Ah Difficoltà Noioso di uno Aia Mi sto facendo ammazzare con un deficiente Dammi le carte un attimo Oh Che noioso Ok Lì c'è un'altra foglia Dammi il coltello Beh Devo riuscire almeno a finire questa parte Aspetta un minuto Ecco Non facciamo Cose brutte Salviamo Con calma Si fa tutto Porca miseria Mai trovata tanta difficoltà in un gioco E aia Ma chi è che mi spara? Ma che c... No no Aspettate un attimo Io questi li ammazzo Sali su Dammi le carte Dove siete mo? Osate Venite qua Figati Tiro un coltello Provaci Lurido 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 insetto Fanno pure il rumore degli elicotteri Come se fossero simpatici sti cose Maledetti Ok Corso ostacoli su Su fogliolina Uff Sarà difficile trovare dei titoli adeguati per queste cose Vai via Date via Io c'ho paura di cadere da queste cose Comunque questa foglia è di uno snodabile fotonico per riuscire a passare così Oddio Un fiore I fiori La flora mi uccide La flora mi vuole morto Oddio Oddio Aia 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 Ma come faccio a non cadere Da qui E sono morto Per motivi arcaici Che non ho capito molto bene Ho capito che ci sono i piragni in acqua Ho capito che ci sono I maledetti piragni Però Che ci posso fare io se questa qua mi becca le cascate Vaffanculo Del mia gara E casco dalla foglia Riuscisse a centrarvi Aia Che poi vedete Cade e non riesce a risalire Perché È ovvio Perché nel senso Sei in acqua E non puoi risalire Ovvio Uff E aia Ancora Venga vi tiro il coltello Occidenti Un paio di colpi Io li ho tirati Allora io adesso scendo E prendo sta vita Vediamo se riesco A prendere la foglia Ok Ce l'ho fatta E almeno mi sono recuperato un po' di vita Mamma mia Ora qui Io scendo Perché Secondo me va fatto così Oh Aia Mi sono slogato una caviglia Aia Maremma Maiala Non riesco Carca butto Ti centro io Ti faccio del male fisico Non riesco a prendermi da qua Maledizione Devo levarmi dalle scatole Prima che tornino Ma che cazzo Miseria E' più complicato Questa di una corsa A ostacoli Anche se sono sulla foglia Salva Per carità di dio Devo riuscire a portare A termine A meno questo pezzo Finchè non porto a termine A meno questo pezzo Non chiuso Perché non è possibile Ehi Che cacchio Non saltava Allora Uno degli elicotteri Mi ha mancato Ecco l'altro Vi centro Vi centro Questa volta Mi spiace per voi Ma vi centro male Vai via Oddio no Ma porca miseria Porca miseria Porca Mi distraggono Che palle Posso morire per colpa Delle coccinelle Ma che cacchio Allora Sparite Date via Allora Mi devo tenere pronto Ah Guardatelo lì Eh sì Bravo Simpatico Tu Oh Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Certo Non mi si è grappato Alla fune Lei non mi si è grappata Alla fune Che palle Che palle Che palle Fastidio Fastidio Quando non mi riescono le cose Fastidio Tiè Ma porca Ma non riesco a prenderla Quella maledettissima fune Oh ragazzi Vi posso dare una buona notizia Ci sono riuscito Maledetta fune del bip Uff Ancora surf Ma che Tu mi prendi Bene naturalmente Per il Culo Va bene Facciamoci l'ultima surfata Basta però che questa sia l'ultima Eh ciccio Sono un po' stanco Passiamo sotto i funghi E aia Come al solito Cascata per cascata Sono cascato Eh Dalla serie O per un motivo o per l'altro Giù ci dovevo finire Oh bene A me Almeno mi sono tolto Lo sfizio di farvi vedere Questa parte Così Non ne parliamo più Oh Per carità di Dio Bene ragazzi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo superato Le maledette Rapide Di questo Prorato fiorito Spero comunque Che il video vi sia piaciuto Nonostante il mio range Nonostante le difficoltà del gioco Stiamo andando avanti Per il resto Ricordate di lasciare i like Commenti Sharing E tutto Con i tastini Sempre sotto Al video Link Alle pagine facebook Rockland Di Solpiganti Serve anche quelle Sempre in descrizione Al video Vedete di iscrivervi Se non siete iscritti Qua su youtube Iscrivetevi pure qua Nel frattempo ragazzi Noi ci rivediamo In un prossimo video Statemi bene A presto Ciao ciao